eccoci eleonora ciao elena ciao ciao c2 e escursionisti esteri anche vediamo l'estero abbiamo all'estero ma non stacca 5 4 3 2 1 allora mi fa vedere questa scena dove c'è lei che un uomo molto forte molto muscoloso ok che però ha tutto legato in tutti i posti allora al collo ai polsi alle caviglie e alla vita a te le delle ghiere di acciaio con delle catene attaccate che vanno dietro ed è obbligato ad andare in avanti e tirarsi dietro tutte delle zavorre pesantissime e leonora rappresentata storicamente esatto anche se dall'autorizzazione se si 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 va bene vuole un supporto per togliere tutte queste zavorre sì sì no oggi lo facciamo assolutamente problemi e leonora ci ha spiegato tante cose e si è già data alla soluzione insomma lei non vuole la pappa pronta le cose se le farà da sola i cambiamenti li attuerà da sola vuole solo togliere queste zavorre va bene e chiamiamo le zavorre eteriche le entità ma è specificate eteriche o mentali ma solo entità vabbè no vabbè da eteriche sì allora c'è un cos'è un po mannaro c'è quell'uomo con tutti con i denti lunghi e tutti i piedi poi c'è un essere secondo universo una specie di rappresentazione di un satana poi c'è un corvo no aspetta uno sparviero quindi ho qualcuno si fa con i fossi un uccello poi c'è un grigio è una mantide 3 dl va bene entità mentali allora c'è uno di livello 5 poi ce n'è una di livello 4 una livello 3 5 a 5 quella che allora fa sì che lei si che tutto ciò che fa lo fa per gli altri quindi proprio è questa entità mentale fa sì che lei non si muova a meno che non si debba muovere per gli altri immagine che ho in eterico e proprio lei fermo cioè se se guarda lei se è da sola diciamo ok se lei è sola sta immobile se intorno arrivano tutte le persone cui lei ci tiene allora si muove verso quindi è proprio un blocco verso se stessa no l'entità mentale la fa stare immobile per quanto riguarda se si può muovere solo se deve far qualcosa per altri la 4 la 4 è quella che le fa posso dire le fa credere di non essere in grado di esprimersi è quella che le provoca anche l'ansia e questa forma di non adeguatezza nel comunicare in eterico io vedo che lei quando quando inizia un discorso a questa lo inizia solo perché le si attiva questa foga e questa ansia di prestazione ecco ok proprio questa questa sensazione di dover fare una grossa fatica per trasmettere all'altro quello che lei sente e pensa in realtà non sarebbe così ma l'entità mentale le fa fare questa cosa perché la fa parlare solo se si attivano queste emozioni 3 la 3 fa sì che lei non si possa realizzare quindi le provoca vedevo prima quando spiegava le varie cose che lei ha iniziato quindi l'università o i vari corsi professionali ok che a metà si interrompevano è proprio questa entità che fa scattare qualcosa che fa sì che lei si blocchi è come se a un certo punto non ci fosse più niente dopo come se ci fosse il burrone quindi all'inizio e la strada è chiara no poi man mano che la percorre a metà a un certo punto non c'è più niente oltre e quindi deve interrompere lì ok questo è il quarto punto lavori sempre umili e pesanti e attività di miglioramento che trovano sempre un blocco quindi due anni di università poi molla corso di estetista poi molla o ss poi molla per colpa dell'influenza di moda in questo caso quindi non per esatto ma neanche negli altri casi quindi non fatti per farci ok entità mentale se in collaborazione però con falco uniforme vedevo una collaborazione ok nome del progetto di eleonora catenum il nome è uscito catenum con la cappa e l'immagine di lei che è legata a un cerchio enorme secco quasi come se fosse l'uomo vitruviano e questo cerchio si illumina durante le abduction e del proprio la sì è l'immagine che mi ha fatto vedere all'inizio praticamente lei vive incastrata la fanno vivere incastrata con queste zavorre ok quindi lei si può muovere solo se mette tanto sforzo e tanta fatica altrimenti non si può muovere quindi questo tenere sempre le vibrazioni a livello di fatica e non soddisfazione ok in maniera tale che loro possono in qualsiasi modo c'è sempre a prendere energia da lei costantemente e mantenerla lì questo il progetto è si catenata e c'è un clone che allora è quasi come se fosse lo specchio di questi di eleonora incatenata ok però è quasi come se fosse la partenza nel senso eleonora è una persona ok con vibrazioni alte loro gliele abbassa nella incatenano quindi il clone parte dall'incatenamento per poi c'è il loro progetto sarebbe riuscire ad alzare le vibrazioni e vivere un'altra vita di eleonora vibrazione di eleonora adesso 2,8 miliardi a consapevolezza 193 9.4 allora stride la consapevolezza che è molto alta con la vibrazione che è molto bassa la vibrazione siamo proprio messa giù schiacciata ma la consapevolezza a noi e la bassa nessuno se non la televisione barbara d'urso questa roba qua che a lei non prega niente quindi lei anzi molto bello discorso che ha fatto purtroppo non è nelle registrazione del fatto che appunto lei ricerca che lei è sempre alla ricerca di che lei ha scoperto delle cose ha provato delle cose ha approvato per esempio tante religioni tanto tanto tempo fa e poi non la convincevano ma per pochi pochi momenti poche settimane o mesi e poi se ne usciva anche i testimoni di geova varie religioni filosofie movimenti eccetera lei è alla ricerca questo è proprio essere il fatto che ci sia 193 di consapevolezza è la dimostrazione se che lei è sul binario giusto l'anima dov'è 31 perché fuori chiamala si presenti con se nome insieme alla sua sorella fratello pie l'anima mi dice cubo nero e la ps e la pie corona perché cubo nero mi dice perché sente spigolosa con un'energia nera quindi molto molto mi dice molto incastrata non faccio fatica cioè diciamo se la posta se potessi tra tradurla in l'immagine di una persona anche una donna ok la vedrei molto triste sai quando hai il trucco che colpa mi piace ok così è chiusa tutto così ok perché lei ha deciso di fare questa esperienza di cubo nero perché c'è nessun altro risposta bellissimo e non è nata cattive voleva trovare a se stessa si era in grado di uscire da una da delle interferenze molto potenti molto forti c'è che erano in grado di tenere le vibrazioni basse molto basse voleva vedere se era in grado in questa vita si era arrivata al punto giusto per poter uscire da sola per trovare gli strumenti per togliersi da questo incastro ma che ci sta dicendo se oggi una giornata importante se perché perché sa che oggi togliendo tutte queste interferenze è uscita da questo cubo nero e il prossimo passo è il prossimo passo lo dice proprio chiaro è tentare eleonora con delle interferenze esterne e lei ed eleonora diciamo nel senso tutto tutta eleonora completa che imparare a riconoscerle a tenerle fuori questo è il prossimo step di consapevolezza io tardio se la dea allora va bene mettere la famiglia gli altri al primo posto fino all'annullamento è una delle entità mentali si è fatto sempre marito lo vediamo tra poco ansia ma va avanti però ora più che altro se la quattro e poi tutte le cose sulle spalle tutte assieme proprio questo è lo scopo di tutte le entità a gregate assieme che fanno sì che eleonora abbia proprio questa zavorra da spostare quindi se si sposta la zavorra sennò sta ferma ma lei è una che si sposta e quindi tutte le volte deve mettere una fatica e un intetto molto forti lavori umili perché se le fa lavori umili deve mettere fatica e sforzo che è quello che loro vogliono se lei fa lavori poco faticosi e meno umili deve fare meno fatica e meno sforzo e loro non riescono a tenere le vibrazioni basse così quindi la boicotta no in quello perché abbandonato tutte le religioni in cui è entrata quella è la ps quella è la ps che le faceva vedere le mandava i messaggi e lei è stata brava a coglierli perché in generale la ps prova sempre a mandare i messaggi no ok a tutti e in un modo o nell'altro e se sei bravo a coglierli allora riesce a diventare sempre più consapevole a entrare in comunicazione con la tua ps e lei a quella è stato un periodo dove la ps la proprio allenata a percepire i messaggi proprio lo vedo come un allenamento ci sono stati mesi proprio di vabbè qua a imparare qua hai visto i messaggi proviamo qua c'è ha fatto vari esperimenti proprio di allenamento in quel senso vediamo gli impianti allora l'impianto mentale è tipo una piramide a base circolare abbastanza bassa c'è alta così che però è larga come tutta la testa che all'interno della testa e dal vertice della piramide parte una tipo un'antenna che arriva fino al centro della testa questo qua serve l'impianto mentale che utilizzano le entità mentali proprio per è come se fosse un collegamento con le esperienze esterne no quindi la fanno come dicevo prima la fanno muovere solo se si deve muovere per gli altri solo se fa fatica e ci deve mettere tanta fatica intento altrimenti se è una cosa semplice o per sé non la fanno muovere ok lei mi ha appena scritto di chiedi chiedere di far venire la sua famiglia attuale a quella di origine nel cinema noi lo facciamo però attenzione eleonora questo sempre pensare agli altri tu lo sai no che il teatro che cinema va bene lo facciamo sempre ma ma ci sono queste nostre sessioni che sono gratis che sono su youtube e sono lì che si ottengono i risultati betto mamma ne è un esempio no e va bene chiamiamoli famiglia di origine e famiglia attuale no sì sono arrivati tutti penso allora la mamma e le figlie sono tutte in prima fila il papà ha una sorella è arrivata anche una infatti il papà e la sorella sono quarta fila e il marito in fondo in fondo perché un po si sente inadeguato si senta un po vergogna nel senso che si sente responsabile di quello che causa ma non sa come fare diversamente lo vediamo però al marito marito ha quindi entro non ci abbiamo è venuto da questo tanto si è infatti prima che mi dimentichi non c'entra niente c'è una vita in cui elenora è italiana perché non è italiana potevo dirlo 21 vite ci sono quindi qual è la causa esoterica che il fatto che che mi sembra più italiana lei di tanti italiani e apparsa una vita al tempo di quando l'impero romano era in auge no quel periodo lì non era molto forte dove lei era una donna importante aristocratica come se fosse morta prematuramente ed è come se ha un legame però con il posto e quindi quello che vedo è che in quel posto lì a livello energetico ambientale era proprio dove più o meno dove adesso è come se avesse iniziato un comunicazione con l'ambiente naturale intorno ok e si fosse interrotto a metà come se lei in questa vita volesse riprendere quella parte lì vedo che comunicava con soprattutto con gli uccelli e gli alberi aveva iniziato proprio a fare un processo energetico di comunicazione con gli uccelli e gli alberi ma è venuta a mancare prematuramente e la sua ps vuole riprendere quella cosa lì energetica perché molto potenti secondo la ps corso di trading online lei aiuta a trovare l'indipendenza economica aiuta gli altri nato dipendenza economica le costa un totto al mese fa dei sacrifici vuole sapere se è la strada giusta allora non non ha niente di negativo il corso in sé non ha nulla di negativo dopo quello che mi appare che ci saranno delle piattaforme su cui lavorare che saranno molto saranno molto proficue e pulite ce ne sono delle altre che invece sono abbastanza rischiose sono rischiose da utilizzare eccomi è arrivato a questa immagine qua il corso è molto è pulito ed è molto buon cielo vedo una cosa buona per lei e dopo deve essere molto brava a intuire la via che è più sedone ok è l'unica strada questo questa lezione fino sì sì esatto allora da oggi in poi quando noi puliremo tutto lei sarà appunto in quel momento lì con quelle condizioni di sarà in grado di fare tutto quello che vuole quindi qualsiasi cosa lei scelga con quelle condizioni li potrà portare a termine avrà successo ma sta lei mantenere appunto quella cosa lì ok c'è un problema in tutta questa storia va bene nella cinema abbiamo chiamato le figlie la vecchia famiglia di origine la nuova appunto con le tre figlie le tre figlie le vedi no ci siamo davanti proprio se si femmine tre femmine e sto marito ovviamente la sessione è di leonora il marito è tossicodipendente da gioco e da sostanze e lavoricchia le porta avanti la famiglia soldi insomma non è una bella situazione quindi queste sono belle belle considerazioni queste che abbiamo appena fatto ma le condizioni sono un po complicate perché cubo nero si è infilata in questa situazione ci dico è più legato proprio all'aspetto meramente di imparare a pensare a sé prima c'è la sua felicità suo benessere perché poi si rifletterà fuori sono tutte prove c'è il fatto che lei mantenga questo rapporto perché pensa alla famiglia e al marito ok fa sì che lei rimanga incastrata in questa cosa di pensare agli altri c'è un'esasperazione di questa prova ma se le ci pensa bene sta già mantenendo lei la famiglia quindi se lei si separa dal marito può può esserci solo del benessere della serenità meno preoccupazioni quindi alla fine sarebbe tutto più positivo quindi la ps diciamo le ha fatto fare questa esperienza per esasperare la sua tendenza a fare tutto per gli altri niente per sé ecco perché se vogliamo vederla in positivo è un'occasione si è uscita pensiamo a eleonora che giovane a 99 anni che dice come è stata complicata la mia vita ma quanto ho vinto su tutte le battaglie non ne ho persa neanche una me la sono complicata e sono se vogliamo in qualche modo andata avanti nel gioco se la dimostrazione di essere andate avanti nel gioco è la riduzione delle vite precedenti o la riduzione annullamento delle vite future di rincrenazione eleonora con queste condizioni però un'occasione che può anche essere mancata in questo caso esatto sì sì quindi quindi aiutare il marito che in realtà si aiuta da solo o se rendere delle decisioni prendere delle decisioni quelle che saranno saranno su se fiamma lei umilmente sempre anche un po tende allora io apprezzo molto leonora portiamo da questo presupposto tutti i clienti come leonora e leonore e leonore leonore veramente cavolo perché tanta roba perché lei sa già capito tra di capito le cose principali benissimo non vuole la papà pronta alle sue ricerche approvato buttato lì le cose alla mamma la mamma accolto al volo lei è contenta evidentemente tale mamma co tale figlia ma se è stata fortunata da questo punto di vista ma non si è messa lì a incapponirsi mamma butta rosario guarda le sessioni noi e la buttate lì quella quale è piaciuto evviva e mi ha chiesto a punta di piedi la fiamma la fiamma sicuramente esiste in un futuro o in un presente sì allora diciamo che anche qua la sua ps insieme alle entità hanno fatto sì che le stesse appunto in questo cubo nero e quindi le energie erano tutte utilizzate per stare lì ok quindi non finora non c'è stato il presupposto per creare la fiamma ok ma lei ha iniziato a pensarci quindi già già solo pensare alla fiamma fa sì che si apra uno spiraglio per iniziare a crearla quindi lì ecco ecco lo vedo adesso è in questo momento non mi era mai stato così chiaro nel momento in cui tu inizi ad aprire uno spiraglio per creare la fiamma è come se arrivasse la nuvola con le fiamme grezze ok lo richiama inizia il processo ieri abbiamo visto la gym la palestra la gym fiamme come la vedi la gym fiamme allora adesso rispetto a ieri ancora fatto un'evoluzione secondo me nel senso che adesso è quasi proprio come se ci fosse anche un intento quasi comune sai che avevamo visto che più fiamme si cercano di unirsi e si uniscono più proprio l'energia globale aumenta a livello vibrazionale ecco qua è quasi come se si fossero quasi organizzate nella loro ricerca non so come spiegare se hai presente quando c'è stato con un esperimento visto un esperimento dove mettevano un sacco di plettri scusa di metronomi che li facevano partire tutti a caso ma erano tantissimi non so se 500 mille ok li mette li facevano partire tutti a casa finiva era fermo poi facevano partire quello e alla fine tutti finivano in sincrono ecco è un po la stessa cosa è quasi come se sincronizzassero le loro vibrazioni le fiamme dentro alla gym fiamme per far sì che è come se sincronizzando le vibrazioni più facile per tutti andare avanti nel loro processo di ricerca eleonora e dentro e fuori dov'è eleonora rispetto alla gym allora c'è una zona di come se fosse un'anticamera proprio quanto è proprio dell'anticamera dove quando apri lo spiraglio e 6 nell'anticamera ok quindi se tu vai guardi nella porta successiva c'è la gym e quindi lì puoi entrare iniziare la tua ricerca che guarda la porta lei e se il colore alla porta al porto verde potrei dire quasi fluorescente e ha un uno strato di energia bianco perla appena tu metti la testa dentro vedi tutte le fiamme alla ricerca lei non mette la testa dentro sì 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 cosa fa lei da sola lei da sola sbircia dentro vedere cosa c'è inizia adesso inizia a farsi spazio tra le grandi che cercano ed è come se si adesso entrata è come se ognuno a livello vibrazionale avesse un suo posto dedicato e quindi viene attirata ad andare verso il posto una specie di slot se con accanto uno slot vuoto se che è vuoto allora sì nel senso che finché le fiamme non si trovano sono da una parte allora c'è questa cosa che quando uno inizia a cercare la fiamma quindi inizia a mettere gli intenti automaticamente c'è un'altra fiamma da un'altra parte che si attiva a cercare che mette gli intenti a cercare la fiamma che sarà poi la fiamma corrispondente quindi ognuno ha uno slot vuoto vicino quindi però se diciamo c'è una donna un uomo generalizziamo una donna un uomo che sono le due fiamme che si stanno cercando con gli intenti ok la prima che la più veloce tra le due che individua l'altra si mette nello slot vicino a che quindi può essere o l'uomo che va vicino a eleonora o eleonora che va vicino all'uomo ecco quindi in questo caso eleonora ha già andato avanti è data lei nel suo slot e aspettita quindi teoricamente lei è più avanti come consapevolezza rispetto alla fiamma o è più indietro sto guardando secondo me un pochino più avanti si è attivata prima si è più veloce lei ok sono ancora grezze quante sono allora no adesso non ce n'è una ce n'è una che è scesa italia se prima ce n'erano sette grezze adesso sono sei perché un'escesa italia si va bene e altri dettagli sono inutili perché sono solo fuorbianti vite precedenti con il marito e condizione del marito come non fiamma immagino ma magari un'anima gemella che ne so motivo per cui lei ha fatto tre figlie con lui cause esoterica ovviamente allora sono stati sempre marito e moglie in un'altra vita dove diciamo la situazione era un po opposta invertita nel senso che lei ha avuto anni e anni e anni di una forte depressione dove il marito si incastra si è trovato incastrato nel diciamo nel sostenere lei più o meno intorno al miglio si a metà 1800 dal 1820 al 1890 più questo no diciamo che è quella per cui lei adesso si trova quasi come se avessero deciso di invertire i ruoli in questa altre vite allora c'è nemmeno dove erano fratello e sorella layer maschio e lui la femmina nonno e nipote maschio allora lui il nonno e lei il nipote maschio anche da un'altra dove erano due fratelli che da due uomini che collaboravano sul lavoro sì ma diciamo che in tutte erano abbastanza se erano anni mi affini non ti di grado alto ed è come se si fossero tra virgolette in capo uniti per cercare a tutti i costi di diventare aumentare il loro grado di fiamme di anime affini per diventare fiamme non ha senso c'è la ps di eleonora ora diventa consapevole con questa sessione che non è che inutile incapponirsi con una determinata ps di un'altra persona per diventare fiamma cioè non è quello lo scopo non so come dire ma che ti dici c'è la ps 6 fissare su una ps ma è invece partire in generale e focalizzare i propri intenti per trovare creare la fiamma più affine so se ho reso quello che vedo cosa fa al marito del cinema si sente molto molto inadeguato diciamo che il coraggio che sta usando a rimanere nel cinema si sta facendo coraggio a rimanere lì ok sotto sedile del cinema c'è che co blablabla sono più sono un secondo c'è una vic disponibile ognuno c'è ce n'è una c'è una sottoseglie di tra figlia 1 della figlia 2 della figlia 3 sorella adesso poi non ricordo la madre mamma e papà c'era anche ma il papà il fratello ce n'è una sotto sedile di lui sì la prende allora diciamo che mentre guarda allora ha preso la vic ce l'ha in mano e mentre la guarda alla sua ps quasi come se vedesse quello che potrebbe succedere prendendola nel senso che nella quello che lui pensa è che se la prende come se dentro di sé ci fosse un enorme spaccatura che gli creerebbe un dolore assurdo e quindi è l'indeciso beh sì però sono tante informazioni nella vic la i e la colla di vic liberazione in funzione consapevolezza la i è quella più importante lui è schiavo di entità mentali mentali infatti tali le più importanti di tutte sono le entità mentali non sono le eteriche le in pittano le entità mentali sono le più importanti più pericolose più difficili da individuare difficili da togliere è una è quella relativa alla sostanza di cui è dipendente e al gioco d'azzardo è tutta straba qua sono entità mentali sicure mentre entità metali collettive a cui è connesso sono programmi lui è connesso programmi quelle informazione è fondamentale poi lui fa tutto quello che vuole della sua vita ma quelle informazioni non le ha e dovrebbe averle perché le informazioni bisognerebbe averle dovrebbero essere gratuite vere mai false o noi viviamo in un mondo di informazioni false ufficiali false non ufficiali i complottisti informazioni dovrebbero essere sempre vere o non sono informazioni semplicemente non sono informazioni sono balle la verità queste sono informazioni vere sicuramente non possiamo analizzare il suo caso ma avendone visti tanti uguali e simili non è che ci siano grandi alternative sono entità mentali collettive questa inventate ad hoc quella sostanza lì è inventata apposta per è una bella pesante se una pesante che cosa fa se sta facendo coraggio adesso la presa ok adesso vede obiettivamente senza emozioni quale può essere il suo percorso per liberarsi da questa cosa quindi vede proprio come se ci fosse qualcuno che glielo spiegano quindi smettere pian piano ci sarà mi fa vedere no che lui vede che ci sarà la crisi di astinenza poi dopo passerà e si libera per chi fa che potrebbe fare questo percorso per la moglie per le figlie o per se stesso per se si accorgono le informazioni si diciamo che la la vic la presa guardando le sue figlie quindi lo spunto per prenderla sono state le sue figlie adesso che l'ha presa gli è chiaro che è per che lo deve fare o lo può fare sì sì allora c'è da una parte il percorso e lui dice ok se c'è quella parte di sofferenza ma è fattibile e poi c'è dall'altra parte comunque ancora ricordano del ricordo di quello che ha vissuto fino adesso e che ha paura di vivere che gli dice sì ma sei sicuro che no quindi è comunque in eterico è molto consapevole che il passaggio può essere molto meno pesante di quello che lui si immagina no egli è chiaro e ha sempre però questa questa voce di fianco che gli dice ma guarda che non è poi così lieve quindi in questo momento è consapevole di quello che è ma ancora un attimo ogni c'è fatti e bassi e consapevole dice ok poi dopo c'è la voce che gli dice guarda che è doloroso quindi ecco però è molto più becchiato molto meno molto meno impaurito molto meno molto più coraggioso è molto più deciso a a buttarsi e provare ecco rispetto a prima che era proprio in un angolo era lì quasi in ansia per andare via perché si sentiva proprio in adeguato in colpa ecco adesso vede che ok è stato questo posso reagire con la mia forza e superare ecco via chiara questa cosa qua vedo questa differenza va bene chiamiamo apriamo il brutale aureo chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di eleonora e la nonna materna che le lascerà un messaggio ci sono tanti sono 326 ok qualcuno in particolare che vedi degno di l'unica informazione che ho visto che sono arrivati anche fino alla sesta generazione e poi è arrivata la nonno un po ingobbita mi fa vedere che lei aveva qualche capacità medianica era un po sensitiva mi dice la nonna materna sì e quindi è molto è molto felice di vedere che leonora è arrivata fino a qua oggi perché si sente affine a questa cosa eccola riconosce anche come sua bene anche da un forte abbraccio andiamo lì tutti nel portale auguro se anche lei è andata bene quindi troviamo le file del discorso eleonora è una dea c'è una creatrice ha visto tutta la sua situazione e la desiderata la chiesta non ha dormito stanotte l'attesa sa che faremo quello che faremo ma poi il compito è suo solo in queste condizioni con questa analisi quant'è la sua vibrazione da 2 8 che era prima 49 miliardi benissimo e ci sono ancora tutte le entità eteriche e mentali e gli pianti e catena il progetto perché è aumentata così tanto perché con la consapevolezza c'è più chiara nel senso prima aveva lei sapeva che aveva delle interferenze ma non sapeva era tutto confuso non sapeva quali sapeva come ok adesso che è molto lucida la cosa che è molto chiara le riconosce e quindi hanno molta meno forza già c'è se lei dovesse fermarsi qua comunque per ipotesi tenere tutte le sue interferenze le riconoscerebbe quindi loro avrebbero molto meno potere già quindi questo le riesce a tenere le vibrazioni più alte andiamo al cluster allora se lei vuole andiamoci ogni vita è un palloncino d'acqua pieno d'acqua ok lo vuole scoppiare tutti mettendo palloncini e acqua in un portale definitivo ogni volta i contratti sono differenti in questo caso sembra quasi che apparentemente siano cose pesanti e gravose perché l'acqua pesa i palloncini possono essere anche grossi no grossi come se palla da calcio ma si eliminano con uno spillo esatto scoppiano in un attimo e anzi quasi divertente no tirarsi i palloncini vini d'acqua uno degli sport del ferragosto italiano il gavettone quindi si diverta facciamola divertire lì nel cluster da sola all'inizio sembrava che si avvicinasse un uomo che potrebbe essere la sua fiamma in realtà è la sua idea di fiamma c'è inizia proprio già a concretizzare la sua intenzione la sua creazione di fiamma e quindi l'energia la fiamma ideale la sta seguendo ecco e le figlie sono molto entusiaste curiosi incuriosite se vedo molto contente allegre che chiedono alla nonna le cose la non spiega cosa sta succedendo e anche lei molto entusiasta molto partecipe ma sono le figlie sono sempre al cinema perché a volte i viventi vengono anche a vedere nel cluster come partite ricche ovviamente diciamo che non hanno non si sono permesse di invadere lo spazio di eleonora ecco sono molto prese molto entusiaste ma stanno come se stessero al loro posto va bene portale aureo e potrà definitivo qua se si chiedono ad eterno un comune credo che non vediamolo potrebbe somigliare a un tulipano chiuso per ora viola quindi vede due pietali grossi no che così che chiudono e viola e che fa questo all'eterno manda l'energia ovunque nel cluster viola si viola viola anche l'energia dico si è che l'energia viola si vabbè avatar come lo vedi impiccato è seduto mai con la corda al collo via c'è interessa di un programma che fa cretino non serve più ma chi un solpita definitivo anche qua falla d'eterno come tulipano entità eteriche lupo secondo universo cosa sapeva quello del secondo diverso ma cosa è connesso il presunto satana che satana non esistono allora prima era diciamo che era una replica era un continuo tenere delle interferenze collegate al secondo universo diciamo secondo universo cambiava contesto ma si teneva sempre collegato eleonora prima erano le varie religioni adesso era l'interferenza del marito e l'interferenza più pesanti sì esatto quelle lupo mannaro satana barbiero mantide 3 dl ci sono ancora no niente no no assolutamente l'entità 5 4 e 3 mentali ci sono ancora no gli impianti e progetto catenum no 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 l'umone muscoloso con le catene e i bracciali e collare le cavigliere di metallo legato a pesi che lo impedivano gli impedivano di procedere c'è ancora no che era lei no rappresentare ps è sempre cubo nero come nome alla magrafe no ps è sai quelle sfere con le con le che hanno dentro quelle c'è si vede come se ci fosse dell'energia dentro ecco del plasma che si muove plasma sfera mi dice ecco la atmosfera e la pia raggirà da corona raggirà da cubo nero a plasma sfera se nuova vibrazione 247 migliati bene la dea non vuole alzarla mettendo un 4 o il 7 all'inizio del numero di tre cifre allora diciamo che va bene 472 dice per ora tra un po tra un po va bene anche il 7 quando incontrerà la fiamma quanto vibrerà con la fiamma 960 ok percentuale di consapevolezza 214 ovviamente questa cosa della fiamma non la vuole non la vuole non è che deve forza quindi tutte le conseguenze sanno se lo vuole non c'è questa possibilità se non la vuole non la vuole ok ps 69 vite precedenti mille 142 cervello 9.9 capacità medianiche di eleonora oggi e tra un po oggi le non ne ha consapevole ma è già in grado di vedere e sentire il campo intorno energetico il suo e quello esterno potrà arrivare a la lettura del pensiero sicuramente e potrebbe arrivare la telecinesi se si impegna e se lo vuole un messaggio finale di eleonora se stessa torna a comunicare con la natura ti aiuterà a rimanere centrata e ad alzare le vibrazioni poi mi fa vedere delle immagini mi viene questa immagine qua vedo lei fra un po che farà una cosa che la vedo molto prese molto appassionata con certo è proprio la passione il cuore e vedo lei che comunica con delle persone siete elegante che comunica con delle persone e spiega queste persone un aspetto un tipo di percorso che possono fare e le indirizza in vari posti come se lei fosse in una wall e indirizza le persone a fare diverse cose ma il trading quindi però ti persona non so se è possibile ma potrebbe essere però la vedo che è di persona quindi può essere che magari è tipo un ufficio dove lei si potrebbe essere anche il tredi io vedo che lei accoglie persone molto elegante accoglie le persone le persone le chiedono una cosa e lei le dice quale strada a prendere forse da quello che ha spiegato potrebbe essere il trading mi sembra che gli insegnano a fare questo no più o meno o meno vabbè ci sono mille sfumature magari se se non è un'evoluzione del trading anche ok come la vedi lei lei avevamo visto era molto centrata all'inizio una forte centratura oggi già oggi adesso adesso vedo che anche la è sempre centrata molto decise determinata a mantenere la sua centratura la vedo che sarà è molto centrata a voler alzare tenere alte le sue vibrazioni e petto che ha la forza e il coraggio oggi per fare le azioni per se stessa in questo momento nel cui ed ora così se le si tiene centrate tiene vibrazioni alte così riuscirà a riconoscere le interferenze a tenerle fuori no ma non chi dire se è pronta a tornare ma se non vede l'ora di uscire là fuori fare il culo a tutti ha detto tu sei pronto a tornare e le mani ok